Ecco, secondo lei a questione quindi cosa servirebbe? Un senso unico? Secondo me assolutamente un senso unico, anzi, soprattutto per i villeggianti, perché luglio-agosto è sempre un po' un caos, comunque non riescono a passeggiare, quindi il senso unico è anche chiuderla la strada. Sarebbe ancora meglio, solo che lo so benissimo che è impossibile. Parliamo soltanto proprio del periodo in cui c'è tanta gente qui a Castione. Ma sì, perché durante l'anno poi la cosa è più tranquilla, quindi è sempre una strada di passaggio, però è più tranquillo durante l'anno, però luglio-agosto, Natale, così, è una cosa fondamentale proprio la chiusura di questa strada, veramente. Anche per poter fare delle manifestazioni, qualcosa, perché se no siamo sempre legati al fatto che ci sono troppe macchine in Castione, veramente. È una richiesta che noi commercianti da tanto tempo stiamo facendo, l'amministrazione, perché anche durante la settimana il traffico qua è parecchio e disturba anche i villeggianti, anche noi che subiamo tutte queste auto, l'inquinamento, il rumore. E poi quando c'è il senso unico la gente è più rilassata, si muove meglio, è più tranquilla. Perciò sicuramente sembra una cosa molto utile, importante da farsi, sì. C'è chi dice addirittura che forse si potrebbe anche chiudere qualche volta in più la strada proprio del tutto. Anche, anche quello sicuramente andrebbe bene, va valutata e in certi periodi, certe giornate si potrebbe anche chiudere, almeno qualche ora, in modo da lasciare un po' più di tranquillità al passeggero. Non chiudere sempre altrimenti le vetrine non ne vede più nessuno. Ma no, non direi di no, perché tanti hanno ancora l'idea che se non passano la macchina, se non lavoriamo, invece non è vero. Perché quando la gente può camminare è tranquilla, si ferma, guarda di più, è più rilassata. Perciò penso che non ci sarà una perdita, anzi, magari anche un guadagno commerciale. Sicuramente, per la mia opinione, sarei molto favorevole al senso unico durante tutta la settimana, nei mesi di luglio e agosto. Sia per i pedoni, che avrebbero più spazio per camminare, sia per le macchine, che andarebbero più piano, sicuramente. E chiudere qualche volta in più il centro, c'è chi propone anche questo? E chiudere sarebbe una bella cosa, sabato o domenica, ma penso che sia impossibile. Cioè, essendo l'unica strada che c'è, che va al passo, diventerebbe molto problematico dal punto di vista del traffico, per gli automobilisti, insomma. C'è chi chiede anche di sistemare lo svincolo in prossimità della chiesa, dove quando viene instaurato il senso unico c'è qualche difficoltà, qualche problema. Eh beh, vicino alla chiesa possono anche succedere i miracoli, però, ne dubito, insomma, le richieste sarebbero tante, ma bisogna stare un po' con i piedi per terra e vedere cosa è veramente possibile fare. Il senso unico, non vedo nessun problema nel metterlo in atto, insomma. Villeggiante? Sì. Quindi la provincia di Milano viene qui in Villeggiatura? Sì, sì. Siamo di Segrate. Vi rendete conto anche voi che c'è un problema di traffico che insiste sul centro di Castione? Se questo paese non avesse tutto questo passaggio sarebbe molto più bello. Sicuramente la sicurezza nel centro storico dei pedoni si risolve con una mossa strategica, facendo il senso unico, come ha anche confermato il sindaco su un giornale locale. Però, se si dovesse veramente fare il senso unico, dando questa mansione ai nostri vigili, usando la testa ovviamente, quando c'è traffico e quando non c'è, si può fare diversamente. Si renderebbe Castione più vivibile, più sicuro e sicuramente darebbe la possibilità di poter camminare per le strade di Castione in modo decente. Sì. Sì.